Ciao a tutti ragazzi, oggi facciamo un confronto tra scarponi d'alpinismo tutto interno di scarpa perché ho qua i Ribelle Tech 3 e i Ribelle HD normali. Adesso insieme ne vediamo le differenze, soprattutto quale è meglio per il tipo di alpinismo che dovete andare a fare. Iniziamo come al solito dalle suole di questi due scarponi. Abbiamo entrambi una suola Vibram, nel particolare i modelli Precision Tech Roll sulla Ribelle HD e il modello Light sul Ribelle Tech, semplicemente è un pochino più leggera. La gran differenza però sta nella mescola di questi due scarponi perché i Ribelle hanno una Vibram Mount, mentre i Ribelle Tech hanno una Vibram Mega Grip. Questo cosa vuol dire? La Vibram Mega Grip di questi Ribelle Tech è eccezionale, ha veramente un super grip su roccia. Cioè su roccia non penso di aver mai trovato uno scarpone che abbia un grip come la sua di questi Ribelle. Però il problema è che su tutto quello che è una roccia stenta un pochino. Cioè se in un avvicinamento dovessimo trovare un po' di fanghino, un po' di briciolino, non è che va così bene. La Vibram Mount invece è una mescola un pochino più dura, quindi anche sicuramente che dura un pochino di più rispetto alla Mega Grip. Però è una mescola che va bene un po' ovunque, per intenderci anche negli avvicinamenti. Se dovessimo fare un po' di fango, trovare un po' di condizioni particolari, lei ci darebbe il miglior grip. Quindi diciamo che la Vibram Mega Grip di Ribelle Tech è proprio pensata per andare esclusivamente su rocce ed è lì che dà il 100%. La Vibram Mount sui Ribelle HD invece ha un po' una suola più tuttofare. Passiamo ora all'intersuola di questi due scarponi. Per quanto riguarda il Ribelle Tech abbiamo la tecnologia Drop 6, ovvero cosa vuol dire? La differenza d'altezza tra la punta e il tallone di 6 mm, mentre nel Ribelle normale questa differenza è sopra il centimetro. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che con i Ribelle Tech si avrà una camminata molto più naturale. Vuol dire che utilizzando questi scarponi dopo tantissime ore avremo un piede molto meno stanco rispetto ad utilizzare i Ribelle HD normali. Questo è dato anche dal fatto che la rigidità dei Ribelle Tech è inferiore rispetto ai Ribelle HD. Per intenderci i Ribelle Tech hanno una rigidità, diciamo a metà, tra un semirigido e un rigido completo, mentre i Ribelle HD hanno una rigidità proprio al massimo. Cioè questi Ribelle HD vi assicuro non li piegate neanche se state lì con tutta la forza che avete. Per quanto riguarda invece l'utilizzo col rampone, beh comunque lavorano bene tutti e due. Anche se il Ribelle Tech è un pochino meno rigido non ha nessun problema a utilizzare il rampone. Anzi, entrambi dei scarponi una volta che montiamo il rampone ne vediamo tutti i pregi di questi in tersuola. Passiamo alla parte superiore iniziando dalla Tomaia, che qua abbiamo le più grosse differenze. Qui c'è da fare un discorso abbastanza generico e un po' particolare. Perché il Ribelle Tech ha una costruzione a calzino. Cosa vuol dire? Che quando noi andiamo a indossarlo ci sembrerà di mettere praticamente una calza. Ci sembrerà di inserire il piede all'interno di una comune calza, non tanto di uno scarpone. Invece il Ribelle HD ha la classica costruzione da scarpone di montagna. Quindi noi mettiamo dentro il piede e avremo magari anche un po' di spazio in cui il piede andrà a muoversi. Mentre nel Ribelle Tech, avendo questa costruzione che va a calzino, va proprio a fasciare completamente il piede. È molto diversa la sensazione, ve lo assicuro. Questo è complice anche di una miglior precisione degli scarponi. Per intenderci, con il Ribelle Tech, avendo questo tipo di costruzione, si ha una precisione assoluta. Davvero, è una precisione quando andiamo ad arrampicare, a fare delle vie alpinistiche difficili, che io non ho mai trovato su nessun altro tipo di scarpone. Vi assicuro, è veramente molto molto particolare. I Ribelle Tech si avvicinano veramente tanto a una scarpetta d'arrampicata. I Ribelle, invece, normali, hanno la classica costruzione da scarpone e da alpinismo. Quindi la classica struttura del piede, come siamo abituati, come abbiamo magari provato su altri tipi di scarponi. Per quanto riguarda, invece, la termicità, diciamo che i più termici sono sicuramente questi Ribelle HD, perché avendo una Teutomaya in pelle di Pervanger da oltre 2 mm, sono i più termici. I Ribelle Tech stanno un pochino sotto a livello di termicità. Diciamo che avendo le due membrane, la H-Dry e la Windblock di Polartec, protegge veramente bene, comunque, anche dal vento freddo esterno, eccetera. E poi i più traspiranti, che purtroppo non ho qua, sono i Ribelle Light, normali, quelli proprio sono quelli più consigliati in caso di temperature alte. Quindi diciamo che i Ribelle Tech sono scarponi con cui andrei attorno allo zero massimo, i Ribelle HD invece sono scarponi con i quali si potrebbe andare anche di qualche grado sotto zero senza tanti problemi. Quello che cambia, poi, è anche la chiusura di questi due scarponi. Vabbè, Ribelle HD, chiusura normale, coelacci, proprio classico come siamo abituati su tanti altri tipi di scarponi. Ribelle Tech, invece, abbiamo una chiusura Quick Lace, che va a chiudere la parte anteriore del nostro piede, ha una chiusura comunque abbastanza elastica. Sopra la chiusura Quick Lace abbiamo inoltre un piccolo tessuto che va a coprire la chiusura, per evitare che si rompa sui rovini. E poi abbiamo nella parte superiore della caviglia, nella parte superiore dello scarpone, la chiusura a strap, e che questa fa la grande differenza. Per intenderci, cosa cambia? Beh, i Ribelle Tech hanno una chiusura decisamente più forte. Chiudono molto meglio il piede e vanno a fasciarlo molto di più. Invece i Ribelle HD, come siamo abituati, hanno una chiusura che, anche se andiamo a stringere completamente, comunque un minimo di gioco resta. Il minimo di gioco c'è anche sui Ribelle Tech, ma per l'approfondimento su cosa vuol dire vi lascio alla recensione completa di questi Ribelle Tech. Dunque, dove è meglio utilizzare questi due tipi di scarponi? Allora, i Ribelle HD sono degli scarponi, diciamo, un po' a tutto fare per quanto riguarda l'alpinismo. Sono scarponi sicuramente molto più consigliati per chi va a fare camminate su ghiacciaio. Anche tecniche, anche in cresta, nessun problema, però comunque diciamo tecnico che non si avvicina all'arrampicata. I Ribelle Tech, invece, vanno molto bene su quelle vie alpinistiche che si avvicinano all'arrampicata, quindi a quelle vie in cui veramente ci vuole tanta precisione, in cui andiamo a lavorare tanto di punta, in quelle vie dove abbiamo bisogno di uno scarpone ben fasciante e ben preciso. Vanno bene anche loro per camminare su ghiacciaio e fare tutte le cose che fa il Ribelle HD, assolutamente, però in quel caso sarebbe un pochino sprecato. Arriviamo alla conclusione, dunque, e parliamo di prezzi. I Ribelle Tech vengono venduti in questo momento a 450€. I Ribelle HD, ormai sono in giro da qualche anno e si trova tranquillamente sui 250€, capita molte volte che con qualche offerta si trova anche sui 200€. E la differenza di prezzo è alta, è veramente alta, però anche la differenza di materiale di utilizzo. Come dicevo, i Ribelle Tech molto più tecnici, i Ribelle HD sicuramente più alla portata di tutti. Il mio consiglio è quello di valutare molto bene l'acquisto, perché se andate a fare una via anche un po' tecnica, un po' d'arrampicata una volta all'anno, andate comunque sui Ribelle HD perché vi darà comunque un aiuto. Sì, non sarà un'altezza dei Tech, però comunque riuscite a farla. Se invece siete persone che vanno a fare tantissime vie tecniche, tantissime vie d'arrampicata, cioè praticamente state sulla roccia il 90% del tempo che siete in outdoor, allora meglio andare su questi Ribelle Tech. Tutto dipende naturalmente anche dal vostro portafoglio e da quanto volete spendere. E detto ciò ragazzi, io nella speranza sia stato esaurimento e esaustivo, vi ringrazio per aver guardato anche questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! 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 Ciao!